Bentornati al campo Rodolfo Zander Giacomo De Zorzi per la quarta amichevole della Precision Bianco Celeste, un saluto da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match, subito in possesso di palla, la spalla. Scambio con Lulic, ancora Luis Alberto, palla sul secondo palo, Tiam rischia tanto. Palla finisce sul fondo, era un tiro in porta. Poi basta, può andare al cross, secondo palo, occhio a Luis Alberto, vai Zander, un po' in affanno, poi ancora Lulic, in anticipo su Lazzari, quindi Lucas Leiva sul fondo. Si allarga Lazzari, è uno schema, occhio, palla proprio per Lazzari, può andare al cross, a puntarle però Lulic, ancora Lazzari, penetra del rigore, ancora Lazzari, c'è che ti riporta Proto. Bravissimo con i piedi, Lazzari è sicuramente un ottimo giocatore, non lo scopriamo di certo oggi. Pronto a battere Schiattarella, palla sul secondo palo, occhio a Proto, di testa ha colpito Vaisanen, palla sul fondo, palla larga verso Lazzari, scala su di lui Radu, arriva anche Murgia, occhio al cross, Wallace, e non riesce a intervenire Kurtic, che non si aspetta, forse il buco da difesa bianco-celeste. Va Luis Alberto, Tiam, indeciso, non c'è recupero invece, finisce qui il primo tempo, 0-0, partita agonisticamente molto valida. Lulic, Lukas Leiva, poi Murgia, Tiam, tiro improvviso, Viviani e Luis Alberto li stanno beccando anche a distanza, occhio però a Immobile, ha il rigore, Immobile, non può mancare mai la sua firma, un pallonetto fantastico, e si fa fotografare il ciuffo. Ciro Ciruzzo, all'ottavo minuto della ripresa, va a mettere dentro il primo gol dell'incontro, una palla splendida in profondità, c'è Viviani, c'è il tiro e porta a Proto, un miracolo! Ancora Luis Alberto, carica il destro Luis Alberto, Tiam, in qualche modo, e poi spazza via Vaisanen in calcio d'angolo, ha il rigore, ancora Minala, fermato da Felipe, occhio, Patrick, carica il destro, Patrick, palo clamoroso! Con il destro, non cerca il cross, è basso, occhio, dentro, Minala, ha il rigore, Felipe Caicedo, clamoroso gol poi, 2-0 con il rimpallo con Poluzzi, Felipe Caicedo, va a segnare il gol del 2-0, mette in ghiaccio la partita, 44-18, siamo nel novantesimo minuto della partita, occhio a Dormici nel frattempo, occhio a Dormici, posizione regolare, dentro Ciaccherossi, dentro Rossi, 3-0, è l'esultanza di Sandro Rossi! Finisce qui il match sul 3-0, una vittoria convincente da parte della Lazio.